central hotel il coreografo è alvaro arienti sono 32 tempi su quattro muri lo facciamo prima con i pasti e poi con il conteggio seven and eight charleston step charleston step kick step point step apro chiudo shuffle di destra jazz box e chiudo apro chiudo apro chiudo apro jazz box e chiudo punta punta passo punta punta passo un quarto un quarto un quarto e chiudo e adesso lo facciamo con il conteggio seven and eight one and two three and four five six seven eight one two three and four five six seven eight one and two three and four five six seven eight e adesso balliamo central hotel con la musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti